Faccio la stessa risposta che ho fatto dopo la partita contro la Sampdoria. Per me quando una squadra ha la possibilità di creare occasioni di gol tutto va bene, perché vuol dire che siamo in modo di segnare. Se un giorno la mia squadra non è in modo di avere problemi di gol, ci sarà una preoccupazione sicuramente dell'allenatore, ma adesso non è un problema. Dobbiamo essere più efficaci sotto porta, fare buone scelte, ma non abbiamo Adem domani ma abbiamo tutti gli altri. Tutti gli altri sono giocatori ad accanto di qualità e sappiamo anche che nella nostra squadra tutti possono segnare. E quello è un potere importante per la squadra.